L'entusiasmo e lo spirito deve essere sicuramente altissimo, perché come ho detto nell'intervista dobbiamo portarci tra l'entusiasmo l'anno scorso. Chiaro, ci aspetta una stagione difficilissima con altri obiettivi, però sono convinto che il gruppo, la società e la squadra faranno un campionato dove penso regaleremo qualche soddisfazione. Chiaro che l'obiettivo per il castello è la salvezza e si spera di ottenerla il prima possibile. L'entusiasmo è alla base dell'inizio della stagione, non deve mai mancare, soprattutto quando arriveranno momenti negativi dovremmo essere bravi a metabolizzare il tutto, ma sono convinto che quel gruppo, la squadra, ci toglieremo delle soddisfazioni anche quest'anno. Sì, sentiamo questa responsabilità, crediamo però di essercela meritata tutta dopo lo stupendo campionato che abbiamo fatto l'anno scorso, più che lo campionato è la stupenda stagione, perché meglio di così non so cosa avessimo potuto fare. Sì, siamo delle matricole e come tali ci comporteremo con la massima umiltà, però consapevoli che ce la giocheremo sicuramente con tutte e sarà difficile per tutti venire a Castello. Parto con tanti stimoli, sono venuto qua perché la società mi ha voluto fortemente, dal presidente al mister, quindi sono contentissimo di essere qua. Cerco di portare la mia giovane esperienza per l'entusiasmo di un campionato vinto, quindi sono qua per fare benissimo e spero di essere utile alla squadra. Qua troviamo un gruppo importante, quindi non devo portare niente, c'è già un gruppo consolidato, quindi sanno cosa significa affrontare un campionato di eccellenza. Sappiamo che sarà dura, però ce la metteremo tutta per portare a casa l'obiettivo.